La comunità scientifica è parte integrante del sistema di protezione civile, fornisce un contributo fondamentale in tutta la gestione del rischio, dalla fase di previsione a quella di prevenzione strutturale e non strutturale, alla fase di gestione dell'emergenza e di superamento dell'emergenza e dà anche un contributo molto importante per le attività di ricostruzione dopo l'evento catastrofico. La giornata prevede un evento a livello nazionale che sarà il 14 ottobre, alla quale parteciperanno i rappresentanti dei centri di competenza che svolgono attività scientifica, due rappresentanti a livello europeo del centro di ricerca comune e della direzione generale ECO, DG-ECO e poi avremo la presenza del ministro dell'università e della ricerca scientifica oltre che dell'istruzione. ma non è solamente questo l'evento, avremo 14 eventi locali distribuiti su tutto il territorio nazionale, da Trento a Palermo e in questi eventi locali avremo la partecipazione di amministratori pubblici, regionali e degli enti territoriali, avremo la partecipazione delle altre componenti del sistema di protezione civile in maniera da far capire quanto la scienza possa contribuire a una corretta gestione dei rischi. Ma avremo anche la partecipazione di studenti scolastici o universitari in maniera da diffondere una cultura del rischio e della protezione civile. Non c'è dubbio che ogni evento catastrofico fornisce l'occasione per imparare, ci dà delle lezioni su cui noi dobbiamo costruire una migliore, maggiore capacità di affrontare gli eventi, di prevederli, di prevenirli. Ecco su questo occorre una forte collaborazione tra mondo scientifico e protezione civile affinché il mondo scientifico fornisca quei contributi ovviamente basati sulla migliore scienza e conoscenza che consentano di affrontare sempre meglio queste potenziali catastrofi. La riduzione del rischio di catastrofi è un obiettivo fondamentale che non è posto solamente a livello nazionale, ma a livello europeo, a livello mondiale, in coerenza con il protocollo di Sendai per la riduzione del rischio dei disastri. Ecco, quello che ci proponiamo è di essere sempre più coerenti con questo obiettivo, con i target che vengono posti dal protocollo di Sendai e che vengono monitorati anche dall'Unione Europea e su questo per conseguire questi obiettivi è fondamentale avere il contributo scientifico più avanzato, cosa nella quale il Paese Italia si è sempre contraddistinto grazie proprio al rapporto tra protezione civile e scienza. Questa dichiarazione ovviamente ribadirà l'importanza e l'insostituibilità del contributo scientifico per le azioni di protezione civile e noi ci aspettiamo anche che il mondo scientifico si impegni a delle valutazioni di rischio sempre più sofisticate e adeguate anche alle sfide che i cambiamenti climatici e la variabilità dei rischi che ricordo sono sempre la composizione di tre o se vogliamo quattro elementi che sono la pericolosità, la vulnerabilità, l'esposizione e anche la capacità della comunità di reagire. Ecco, occorre dare anche una maggiore attenzione alle problematiche di comunicazione dei rischi alla società, ai cittadini, alle comunità, di affrontare i temi della resilienza che non sia circoscritta solamente al danno fisico ma anche al danno che si procura in termini socio-economici alle comunità. Questo speriamo che emerga dalla discussione che si avrà nell'evento nazionale, nei 14 eventi locali e che coinvolgerà tutti i centri di competenza, ognuno per la sua specializzazione in uno o più rischi.